Ragazzi, oggi ho iniziato a fare qualche investimento a lungo termine con i miei risparmi e dato che molti di voi mi chiedete sempre come metto in pratica le cose di cui parlo mi sembrava un'occasione perfetta per iniziare a parlarvi e a rendervi partecipi del mio percorso perché giustamente ho sempre detto è importante investire però non vi ho mai invece reso partecipi di quello che faccio direttamente inoltre penso che sia un'idea molto carina condividere queste cose perché poi a prescindere dai risultati c'è sempre da imparare è sempre bello avere un altro punto di vista Sigla! Diciamo che la prima cosa che si deve fare quando si vuole risparmiare quando si vuole insomma diventare consapevoli delle proprie entrate e delle proprie uscite bisogna fare budgeting, cioè bisogna crearsi un budget quindi tenere conto di tutte le entrate e prepararsi già quanti soldi spendere per tutte le uscite un po' per l'affitto, un po' per mangiare, uscire la sera, per i videogiochi eccetera eccetera ognuno decide dove e come spendere i propri soldi la verità è che adesso vivo ancora con mamma quindi non avendo né affitto né spese per il cibo quasi zero spese per il cibo la maggior parte delle mie entrate cerco di farle andare nei risparmi e quindi non mi sono mai creato un vero e proprio budget però ultimamente ho deciso di farlo comunque proprio per costringermi a investire sempre un po' dei miei risparmi ogni budget che si rispetti deve prevedere sempre anche un po' di investimenti in modo da mettere sempre alla parte un po' di soldi da investire a lungo termine in questo modo dopo anni e anni si può avere un bel gruzzoletto da parte attenzione in questo video sto parlando di investimenti finanziari e nello specifico quelli rivolti a gestire i propri risparmi non quelli di un investitore che lo fa per lavoro che ogni giorno vendi, compra, fai mi riferisco a investimenti che tu metti da parte e non li tocchi e sono abbastanza sicuri io nei miei video spesso ho parlato di investimenti ma mi riferivo invece al concetto generale per spiegare che ogni azione che prendiamo ha dei costi e dei benefici e quindi imparare a calcolare i costi e benefici delle nostre azioni ci rende più consapevoli in questo caso invece sto parlando proprio di investimenti finanziari cioè investire in azioni, in obbligazioni, in materie prime queste cose noiosissime attenzione numero due anche se ho detto azioni non sto assolutamente parlando di trading gli investimenti a lungo termine dove mettiamo i nostri risparmi servono a proteggere i nostri risparmi quindi non vogliamo rischiare e soprattutto non vogliamo starci dietro non vogliamo ogni volta pensare oddio ma chissà che fine hanno fatto i nostri risparmi proteggere da cosa? dal fatto che se li lasciamo in banca di anno in anno perdono valore non tanto un 2% in genere alcune volte di meno alcune volte di più perché c'è una cosa che si chiama inflazione e consiste nell'aumentare generale dei prezzi se i prezzi aumentano vuol dire che il potere d'acquisto della nostra moneta diminuisce quindi se noi mettiamo da parte dei soldi e non li tocchiamo se non li investiamo ogni anno perdono un po' di valore al contrario se li investiamo e riceviamo degli interessi magari riusciamo non solo a superare l'inflazione ma anche a guadagnarci un pochino fino adesso tutti i miei risparmi anche perché non sono tanti li ho sempre tenuti cash ma dato che so che almeno una piccola parte di questi risparmi adesso non li voglio spendere ho deciso di crearmi un piccolo piano di investimenti quindi ora vi spiego dettagliatamente cosa ho fatto perché l'ho fatto e vi lascio anche un po' di informazioni un po' di risorse in descrizione così da andarvi a vedere delle cose che magari non avete capito o che magari è divertente o comunque utile approfondire so che molti di voi adesso mi scriveranno ma come non puoi parlare di investimenti perché non sei laureato eccetera eccetera no queste cose invece devono essere un argomento alla portata di tutti perché tutti devono investire una parte dei propri risparmi l'unica cosa è che sarebbe stupido da parte mia mettermi a fare compravendi con azioni e con cose perché mi assumerei un rischio pazzesco devo affidarmi un fondo a un consulente finanziario ed è proprio quello che ho fatto quindi passiamo al dunque 1. Cosa ho fatto? anche se solo adesso sto iniziando a investire i miei risparmi è una cosa a cui penso da almeno un anno in particolare mi è stato consigliato e più volte ho visto recensioni positive e mi piace molto una piattaforma che si chiama Betterment Betterment è un normalissimo consulente finanziario che crea un portafogli diversificato per te e in cambio si prende una piccola percentuale ci si affida a un consulente finanziario perché io magari non so come allocare i miei soldi insomma non so dove metterli in quanto metterli eccetera eccetera in particolare Betterment però lo fa fare ai computer quindi costa molto poco ed è smart e io seguo il blog MrMoneyMoustache che è appunto quel ragazzo ragazzo ha 35 anni non lo so che adesso è già in pensione e molti dei suoi risparmi sono investiti appunto in Betterment e lui sul suo blog fa vedere risultati dei suoi risparmi e effettivamente sono molto soddisfacenti purtroppo in Italia per tutti i non americani in realtà non è possibile utilizzare quella piattaforma però in Europa abbiamo Money Farm e l'ho scoperta sempre l'altro anno ho visto molte recensioni mi sono informato tanto e mi è sembrata veramente affidabile inoltre ha vinto anche vari premi come consulente finanziario quindi è una cosa regolata assolutamente affidabile è stato molto più difficile trovare persone che condividessero i risultati dei loro portafogli però ho trovato qualche risultato ed anche quello è soddisfacente sebbene meno di Betterment che è la versione americana Money Farm allo stesso modo è un consulente finanziario dove tu appunto metti i tuoi soldi mensilmente magari tu gli dici voglio rischiare da 1 a 6 voglio rischiare 3 e lui ti mette un po' in azione un po' in obbligazione un po' in titolo di stato un po' in titolo di stato di paesi emergenti eccetera 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 ora quando ci si informa su fondi consulenti finanziari serve avere un pochino di vocabolario come ho detto prima per avere questo vocabolario non serve essere laureati io vi lascio in descrizione un po' di risorse tra cui il sito Investopedia dove potete crearvi un po' di vocabolario e capire magari cos'è un tasso di interesse capire cos'è un indice capire cos'è un'obbligazione capire cos'è un'azione quindi ho deciso di mettere una quota ogni mese su Money Farm ve lo dico 400 euro ogni mese consapevole che quei soldi li lascio là per almeno 5 anni la mia intenzione non è diventare ricco subito ma solamente quella come ho già detto di proteggere i miei risparmi cosa succede? se io metto 400 euro al mese ogni mese in un portafoglio che magari mi fa il 5, 6, 7% annuo dopo molti anni la cifra che si sarà accumulata sarà molto più alta di quello che vi aspettate per un concetto che si chiama interesse composito molti di voi che mi seguono già lo conoscono compound interest in inglese ma vi spiego in breve vi faccio un esempio per farvi capire cos'è e com'è se io partendo da zero metto 400 euro nel mio portafoglio e questo portafoglio ha un interesse del 7% ogni anno dopo 20 anni avrò 210.000 euro nonostante io sul portafoglio ho depositato solamente 96.000 euro quindi vuol dire che restanti i 114.000 sono solamente di interessi questo perché di anno in anno non solo si accumulano gli interessi sui soldi che io deposito ma si accumulano anche gli interessi sugli interessi dell'anno precedente in poche parole l'interesse composto è l'interesse normale più l'interesse sull'interesse dell'anno precedente questo vuol dire che di anno in anno i miei interessi crescono sempre di più in maniera esponenziale e quindi per più tempo manterremo i nostri investimenti maggiore sarà il nostro guadagno nell'esempio di prima abbiamo detto che dopo 20 anni avrò messo la parte 210.000 euro sapete quanto avrò messo la parte dopo 40 anni? più di un milione di euro anche se in realtà non ne avrò depositati nemmeno 200.000 vi lascio in descrizione il sito per calcolarvi i ritorni composti dei vostri investimenti mettendo i vostri parametri molte persone mi scrivono eh ma adesso sei giovane è presto per investire che vuoi investire a 20 anni e invece no è proprio questo il mio vantaggio e anche il vantaggio di molti di voi avete un grosso vantaggio che è il tempo perché per più tempo dura questa cosa più riuscito a risparmiare alla fine quindi ricapitolando ho deciso di mettere i miei soldi in un portafoglio su Moneyfarm no perché mi paga Moneyfarm è una cosa innovativa perché le decisioni sui portafogli vengono prese molto da macchine infatti si chiama Robo Advisory inoltre però ho deciso di mettere un'altra piccola parte dei miei risparmi su un indice finanziario un indice è un paniere di titoli per esempio esiste l'indice della Borsa di Milano che comprende un sacco di titoli italiani quotati nella Borsa di Milano in particolare uno dei più famosi e quello dove ho deciso di mettere un pochino dei miei risparmi è Standard & Poor's 500 è l'indice finanziario americano con le 500 società americane più quotate al suo interno e di solito viene utilizzato per giudicare diciamo l'economia americana e se nel complesso l'indice si alza vuol dire che nel complesso le aziende americane stanno aumentando di valore fondamentalmente i risultati di SP500 Standard & Poor's 500 ma anche di altri indici di solito sono più alti dei fondi di investimento che sono attivi che fanno compravendi compravendi insomma alcune volte il 90% delle volte in realtà gli indici finanziari quindi il mercato in generale ha dei risultati migliori rispetto agli investitori attivi che provano a battere il mercato comprando e vendendo in tempi che pensano che siano migliori in particolare ho deciso di mettere un po' dei miei risparmi su Standard & Poor's 500 perché è quello che conosco meglio in poche parole è ritenuto da quasi tutti un indice finanziario abbastanza sicuro per il lungo termine io vi lascio comunque tutto in descrizione per le info per riassumere la mia strategia per investire i miei risparmi è quella di farmi un portafoglio con Moneyform e ogni mese metterci 400 euro in più investire anche una piccola parte nell'indice finanziario Standard & Poor's 500 questo non significa che sia la strategia migliore e magari la cambierò perché tanto è un investimento che faccio di mese in mese inoltre in questo video non ho parlato di libretti di risparmi i miei conti deposito buoni fruttiferi postali titoli di stato fondi comuni di investimento non ne ho parlato perché non ho scelto di investire in queste cose e non le ritengo opportunità migliori rispetto a quelle che ho colto io però vi consiglio comunque di informarvi quindi guardate il link in descrizione e anzi vi dico scrivetemi i vostri dubbi e le vostre domande nei commenti perché magari nel futuro farò un video con un esperto di risparmio e quindi potrei fargli rispondere le vostre domande spero che questo video vi sia stato utile voi fate le solite cose quelle ciao ciao